Palla filtrata per Roberto Baggio. Mette la palla in avanti. Pronto al tiro! Porchiello è battuto! Rete! E stiamo raggiungendo punteggi più propri del tennis o del calcetto. Vediamo quando si fermeranno. Fabio, verrebbe da chiedere all'arbitro di anticipare la fine della partita. Per noi è bello vedere gol e spettacolo, ma non posso che empatizzare con chi sta subendo questa umiliazione.